C'è mio Signore osperato, Gesù di Vesce e di Nato, a Tua storna mio Cristo, a Tua storna mio Cristo, Gesù di Vesce e di Nato, E io credo, credo di, credo di, credo di, si contiene la tua volta. E io credo, credo di, 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 credo che aveva lasciato un po' di motivazione di quello che era il sistema. Però mi importa, oppure non faccio questo, nonostante che la denuncia del Signore non dovesse introdurre il capo, il frattato, il suo corpo, ogni colporta che rappresenta la riflessione, io penso che qualcuno abbia conosciuto fisicamente, abbia riconosciuto come persona, però non ha sempre riconosciuto la persona del Vescovo, ma anche il elemento di denuncia del particolare di denuncia del Vescovo, che ha riconosciuto ciò che nel suo cuore ha sempre colpivato questa promunione della Chiesa, anche l'altra delle persone che non c'erano mai come tale identificato, però c'è il Vescovo che ha leggermente lì, quindi lei è un promunione non è la mia esperienza, non è la mia esperienza, anche l'altra delle persone che non c'erano, O Signore, per te morire, 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 per te mor Grazie a tutti. Grazie a tutti.